Compilavano pratiche di finanziamento presso banche finanziarie con documenti falsi, modelli CUD e buste paga. Si facevano pagare dai 100 ai 300 euro per pratica e poi a finanziamento ottenuto pretendevano talvolta anche con minacce, dal 40 al 50%. Ecco raccontata in estrema sintesi l'operazione Payroll, buste paga false, per i reati di assoriazione a delinquere finalizzata alla truffa, poi estorsione, per la quale questa mattina i carabinieri della compagnia di Patti hanno dato esecuzione a sette misure cautelari, disposte dal GIP del Tribunale di Patti Giuseppe Scolaro, richieste dal PM Rosanna Casabona. E agli arresti domiciliari colui che viene ritenuto dagli inquirenti l'ideatore delle truffe, il promotore finanziario e mediatore creditizio Francesco Paolo Letizia, 35 anni di Capodorlando con uffici a Rocca di Caprileone. Sono stati colpiti dall'obbligo di dimora i procacciatori di clienti Daniele Casella, 43 anni di Piraino, Salvatore Botta, 55 anni di Torrenova e Antonino Campione, 61 anni di Caronia. Avranno invece l'obbligo di presentarsi alla Polizia Giudiziaria Antonino Befumo, 33 anni di Sant'Agata Militello, Salvatore Saffo, 63 anni di Sant'Agata Militello e un'altra persona. Nove sono le persone a cui è stato notificato l'avviso di garanzia. Le indagini sono iniziate nel 2010 per caso nel costo dell'inchiesta su un incendio di un'auto avvenuta a Piraino. Da lì attraverso intercettazioni telefoniche, ambientali, pedinamenti e acquisizioni di documenti che sono stati poi sequestrati, i carabinieri della compagnia di Patti hanno delineato i contorni della truffa, i danni delle banche Unicredit, Monte dei Paschi e delle finanziarie Agos Ducato e Consumit. Agli atti anche la querela di un esercente commerciale di Brolo che sarebbe stato indicato falsamente come datore di lavoro. Dieci casi accertati finora per un giro di 200.000 euro. A 100.000 euro ammontava un mutuo per la prima casa mentre il massimo importo delle finanziarie ammontava circa 30.000 euro. L'ufficio di riferimento secondo gli inquirenti sarebbe stato quello di Letizia, Rocca di Caprileone. Letizia avrebbe provveduto alla compilazione e al riperimento di buste paga false e cuda ai clienti che di volta in volta venivano individuati dai procacciatori. Era prevista anche la visura della CRIF. Di seguito i clienti venivano istruiti, accompagnati presso banche finanziarie e seguiti fino al finanziamento della loro pratica. L'invio dei documenti per regolarizzare le pratiche poi avveniva presso aziende e di tegnare di tutto ciò. Le finanziarie spesso non venivano pagate. È stato accertato che il promotore finanziario sapeva addirittura il giorno quando arrivava l'assegno del finanziamento. Le indagini proseguono per svolgere accertamenti su presunti complici all'interno delle banche finanziarie e per verificare la sussistenza di altri casi.